Arriva il fischio, Martellucci, la parota di Scotti, la parota di Scotti! Buonaventura contro Tommaso Corradi Palo! La rincorsa lunga di Barba, palo gol! Stato più fortunato e anche più preciso per oggi Buonaventura, c'è la rete, Bacchiocchi contro Corradi Con il destro, parte Bacchiocchi, gol nell'angolino! Vediamo il numero 4, Sandrini, parte Sandrini, il tiro spiazzato Scotti Con il sinistro Cicarevic, la sua rincorsa, con il destro Cicarevic Cristiano Colla contro Scotti, spiazzato La rincorsa di Brighi, spiazza il portiere avversario, il gol! Luca Franchi, si sposta Il cucchiaio è alto! Il cucchiaio è alto! Valeriani contro Corradi Con il destro Valeriani Fisco dell'arbitro, parte Valeriani Il gol di Luca Valeriani! Il Rimini si aggiudica la Coppa! Il Rimini si aggiudica la Supercoppa! Con Luca Valeriani, 4-3 dopo i calci di rigore E quindi vince il Rimini, 4-3 dopo i calci di rigore E allora sarà il Rimini a sollevare la Supercoppa!